per fare questi provvedimenti seri che possono risollevare il Paese. Ci sono e si possono trovare. Siete voi che non volete farlo. Infine vorrei soffermarmi un attimo sul rapporto fra noi, che siamo l'unica opposizione in Parlamento, e voi che siete la maggioranza. Non me ne vogliono i deputati di Selle, di Lega Nord, ma voi siete un'opposizione quantomeno discutibile, forse un po' finta. E vi dico perché. Perché molto spesso, certe volte, si ha come l'impressione che questa opposizione che dite di fare sia in qualche modo un'opposizione un po' ricattabile. Noi invece no. Voi siete ricattabili perché nelle regioni dove governate i vostri governatori sono sostenuti o dal PD o dal PDL. Io sono del Vento ed è così, ma basta che mi guardi in Lombardia. Io ringrazio per l'intervento. Grazie, Presidente. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'Onorevole Crippa. Ne ha facoltà. Onorevole Baldelli, la pregherei di mantenere un contegno. Grazie. Grazie, Presidente. Colleghi e colleghi, siamo qui oggi in Aula per votare l'ennesimo provvedimento governativo di necessità e urgenza per il rilancio del Paese. Un testo vuoto, una serie di scatole di misure diverse, inserite a forza in un contenitore piccolo, piccolo e più leggero dell'aria. Un provvedimento reso ancora più deprimente dopo la fiducia incassata sul voto nella giornata di ieri. Una pratica indegna resa da ogni forza politica, succedutasi alla maggioranza della legislatura, dopo legislatura. Una normalità. Una pratica che di fatto paralizza ogni libertà di voto ed espressione, che dovrebbe essere propria di ogni eletto in quest'Aula. Una forzatura al Parlamento che, come ricordato in precedenza dal collega Cinque Stelle d'Ambrosio, lo rilega sempre più in un angolo marginale rispetto al ruolo di fulcro della democrazia, che dovrebbe ricoprire. Un provvedimento, quello del fare che di fatto non porta alcun cambiamento radicale al sistema Italia e che palesemente vuole essere un congelamento dell'attuale e pericolosa posizione economica amministrativa. Un provvedimento omnibus che di base non contiene pressoché nessun contenuto di urgenza, condizioni necessarie al fine di giustificare la presentazione di un decreto legge. Come altri colleghi hanno già fatto notare, ci sono stati persino problemi di bollinatura per mancanza di coperture finanziarie. Ma quando mai ci si rende operativo un progetto senza prima valutare concretamente se è coperto dal punto di vista finanziario? Questa è un'ennesima dimostrazione che di fatto questo Parlamento è un attimino fuori dal mondo. Non ha la minima idea di come funzioni. Vive di regole proprie al di là di qualsiasi logica e irrazionalità. Durante la notte di giovedì scorso ho assistito ai lavori del decreto oggetto di votazione. Non credevo che la politica si potesse dimostrare così disorganizzata. La gestione bipresidenziale dei deputati Sisto e Boccia è stata drammatica, come certamente inopportuna è stata l'autonomina con cui gli stessi in qualità di Presidenti si sono incensati a relatori, facendo a mio avviso mancare quella necessaria o almeno ipotetica a terzi età che il Presidente di Commissione deve mantenere nei riguardi della Commissione che presiede. Continui svittamenti dei tempi, continui accantonamenti ed è senza totale di programmazione dei lavori, senza attività ostruzionistiche da parte delle opposizioni. La maggioranza si è incartata da sola, accartocciata su equilibri basati chiaramente su uova in stato di decomposizione. Il paradosso lo si raggiunge sulla questione della termovalorizzazione, incentivi CIP-6, con un emendamento da noi proposto che andava a ridurre gli incentivi C-6 anche per gli inceneritori. Già, perché il Governo aveva ben messo un comma che in qualche modo derogava dalla riduzione degli incentivi C-6 i termovalorizzatori, o meglio noti come inceneritori. Dopo un dibattito notturno che ha svegliato dal profondo sonno molti deputati, siamo arrivati a votazione aperta ad un colpo di mano del Presidente relatore Boccia, che ha sospeso la votazione dopo che gli esponenti del PD ne avevano dichiarato la loro astensione. Magicamente l'emendamento è stato accantonato e poi riformulato dal Governo. Hanno proposto la riformulazione di un emendamento, a mia firma, che prevedeva la soppressione di un comma e lo hanno riproposto come una riformulazione. Noi chiedevamo la soppressione e loro riformula. Mi viene difficile capire cosa puoi riformulare se viene chiesta la soppressione. Avendo noi rifiutato perché sostanzialmente la riformulazione non opportuna e oltretutto nei contenuti veramente blanda, 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 i redattori e i Presidenti lo hanno fatto loro. Quindi le poche parole di riduzione degli incentivi CIP6, quantomeno un piccolo merito possiamo ottenercelo. E finite da descrivere falsità che il Movimento 5 Stelle aveva votato contro la riduzione degli incentivi CIP6. Andate a rivedervi forse le registrazioni di quella sera. La politica deve essere educazione, la politica deve essere esempio, deve essere di algo, una porta costruttiva che ogni giorno nelle commissioni cerchiamo di aprire e anche ogni occasione ci sbattete con violenza sul naso. La richiesta e l'ottenimento della fiducia sul fare ne sono la testimonianza, visto il totale decadimento degli emendamenti e nuovi proposti in Aula. Ma la domanda che mi pongo e che si pone tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati è quali sono le priorità del Governo, ma soprattutto di questo Parlamento? La priorità è la rendicontazione delle spese dell'Expo, vera e propria calamità insieme al TAV per interessi per le mafie. O forse l'impignorabilità della prima casa, un provvedimento che sarebbe vero ossigeno per tutti gli italiani, vista l'emergenza abitativa, che si sta allargando a macchia d'olio in tutta la penisola, che per esempio nella mia città, Novara, ha significato la creazione di un vero e proprio ghetto abbandonato a se stesso fatto di container recuperati dal vecchio campo dei lavoratori TAV. La risposta su questi pochi contenuti portati ad esempio e ripresi da alcuni dei nostri emendamenti è naturalmente no. Come già detto, le priorità di questo Governo sono un mistero, non certo palesato da questo decreto del fare poco e male. L'impressione è che il Partito Unico abbia come scopo il solito aspettare e rimandare, facendo sostanzialmente nulla. Come si potrebbe giustificare altrimenti la proposta della collega Carfagna di una moratoria sui temi etici? Ah già, ma in questi giorni ci è arrivata la notizia che la priorità del Partito Unico è la modifica della Costituzione. Bene, quindi ci aspettiamo un serrato e costruttivo dibattito verso la Commissione Affari Costituzionali preseduta dal Deputato Sisto, per poter delineare una posizione dei testi in più possibili condivisi, come ci si aspetterebbe per una riforma di tale natura. Peccato che l'intenzione della maggioranza sia quella di portare a casa la modifica costituzionale entro agosto, un'intenzione a dir poco irresponsabile, cieca e sorda. L'intenzione di modificare l'articolo 138 della Costituzione, dando potere a un organo non previsto dalla Costituzione stessa, quel comitato dei saggi che di saggio appunto parebbe avere forse, 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 solo un nome. Questo, signor Presidente, sembrerebbe assomigliare ad un golpe. Smacchiatemi questa impressione che mi alleggia nella mente. I cittadini eletti sia la Camera del Senato che il Movimento 5 Stelle non cederanno, non arretreranno di un passo. Faremo e saremo resistenza. Una resistenza pacifica, costruttiva, ma dura, ferma e soprattutto non in vendita. Noi non siamo il partito unico, siamo differenti. Ogni giorno ne siamo sempre, sempre più fieri. Per far capire a tutti i colleghi cos'è il Movimento 5 Stelle, vi leggerò un breve contributo inviatomi da un nostro attivista proprio questa mattina. Virgolettato. Per motivi professionali mi sono trovato a leggere la prefazione del Conte di Carmagnola, di Manzoni, e più precisamente la funzione del Corno della tragedia. Come un guizzo inspiegabile mi sono rimbalzato alla mente le parole del Presidente del Senato circa l'innominabilità del Presidente della Repubblica. Quasi fosse un'improvvisa analogia, ho avvertito che da parte della Casta la percezione del ruolo riservato al Movimento 5 Stelle è equivalente a quello del Coro Tragico, il quale è la personificazione dei pensieri morali e parla in nome dell'intera umanità. Certamente il Movimento 5 Stelle, attraverso l'energica azione parlamentare dei suoi cittadini eletti, è in grado di esprimere una voce capace di superare le passioni individuali per esprimere sentimenti più universali. Insomma, si pone come un interprete ideale, capace di temperare impeti violenti e dolorosi, anche se sciaguratoriamente troppe volte afferma la verità. Credo che identificare e ridurre l'azione politica del Movimento 5 Stelle a termini teatrali da parte della Casta sia cosa quanto fantasiosa e ristretta. Anche se il Movimento 5 Stelle non svolge un'azione diretta di governo e dunque viene privato di gran parte dell'effetto che produrrebbe se ne fosse investito in prima persona, può, a mio modesto giudizio, aspirare a esercitare uno sgancio vigoroso nel dibattito parlamentare. Di certo era malignamente colui che crede di riservare al Movimento 5 Stelle il cantuccio dove egli possa parlare di manzioniana memoria, perché il progetto del Movimento è quello di prestare ai cittadini una voce diretta e determinata affinché possano introdursi nella gestione della cosa pubblica e, non ultimo, il disegno più elevato di esercitare un'influenza morale nella storia repubblicana. Ecco perché il Movimento 5 Stelle non esprime suggestioni, emozioni personali, ma manifesta le riflessioni di un testimone oggettivo, troppo spesso, zittito dalle male lingue dell'ipotesia e dell'opportunismo. Questo è il Movimento 5 Stelle, una forza politica pulita, onesta, sia intellettualmente che nella quotidianità. Proprio per questa onestà intellettuale, che non solo rappresentiamo ma che è intrinseca nel nostro essere, dichiaro fermamente il mio voto contrario a questo provvedimento, che altro non è una scatola vuota e dalla quale non avete voluto inserire alcunché di realmente significativo per il Paese, con una mossa direi assolutamente inconcepibile. Grazie. Grazie, onorevole Prodani. Prego. Signor Presidente, colleghe e colleghi. Oggi l'Italia è chiamata a esprimere il voto finale dopo la fiducia incassata stamattina ieri dal disegno di legge di incoversione al cosiddetto decreto del fare, ulteriore provvedimento governativo di necessità e urgenza, in cui sono previste una serie di misure che dovrebbero favorire il rilancio del Paese. Il dibattito parlamentare è stato avvilito dall'opposizione della questione di fiducia, che ha fatto decadere automaticamente tutti gli emendamenti presentati, malgrado il Movimento 5 Stelle avesse accettato di discutere e votare solo alcune proposte depositate. Infatti, dei propri emendamenti iniziali, circa 500, il nostro gruppo parlamentare ne ha segnalati circa una cinquantina, tra i quali poi ne sono stati individuati otto da sottoporre la votazione. Quando però sono stati richiesti, cari menti, sono stati individuati.